Ciao a tutti, oggi faremo un bacio di dama alle mandorle e limone. Ci serviranno 150 g di burro, 150 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00 e 150 g di farina di mandorle. Poi, visto che dobbiamo fare la limone, io ci metto la buccia di un limone grattugiata. Dobbiamo impastare tutti gli ingredienti insieme. Quindi io vado a buttare il burro e poi lo faccio ammorbidire un po' con la planetaria. Poi butto lo zucchero. Poi metto la farina normale e la farina di mandorle. Poi ci grattugio il limone. Ora lo metto in frigo a riposare per una ventina di minuti. Passati 20 minuti ho preso due stampi e ci ho messo la carta forno sotto. e prendo l'impasto e proprio con le mani lo vado a sbriciolare. Se avete un colino a maglie grandi potete prenderlo. E ora li vado ad infornare a 160 gradi per una ventina di minuti. Io li utilizzerò come base per una torta di quelle stratificate e altrimenti potete utilizzarlo anche da mangiare così.